Si terrà il 26 agosto a Trapani presso la sede dell'Università Unicusano il premio Erasmo Abate organizzato dall'Università e durante il quale verranno premiate alcune delle eccellenze della provincia di Trapani. Nell'occasione verranno consegnate anche sei borse di studio da 15.000 euro l'una. Borse di studio per i futuri iscritti nelle sedi di Trapani e Castelvetrano, iscritti che dovranno pervenire dagli istituti superiori della provincia. Durante la manifestazione saranno presenti anche i cantatori Alcamesi Candra e Calandra. Si tratta di un'iniziativa per la provincia di Trapani unica, è unica anche in tutta Italia perché la nostra Università non ha mai dato borse di studio per merito in Italia. Noi abbiamo fatto una grossa attività di orientamento universitario nelle scuole superiori e allora l'Università nostra, l'Ateneo di Roma, ci ha riconosciuto soltanto per la nostra provincia e soltanto per i ragazzi che si iscrivono nel centro di Castelvetrano e Trapani, che abbraccia tutta la provincia di Trapani, 90.000 euro. Il primo l'abbiamo chiamato Erasmobate perché mio padre era un contadino partigiano che ha insistito affinché io studiassi, sebbene a me piaceva lavorare in campagna, diciamo che lui ha sempre visto lo studio e la cultura come valorizzazione dell'uomo. Al centro della società c'è l'uomo e deve essere preparato, a prescindere dal lavoro che poi vado a fare. Noi abbiamo 17 corsi di laurea, andiamo da economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche, scienze della formazione, psicologia e 10 corsi di laurea in ingegneria. Per il territorio noi crediamo che ingegneria agroindustriale è quella branca dell'ingegneria che potrà sicuramente mettere a reddito tutte le imprese locali, dell'agricoltura e della pesca. Quindi io l'appello che faccio è quella di aggiungere ai soldi che abbiamo messo noi per i nostri ragazzi una borsa di studio di assunzione, un contratto di lavoro che viene dato ai ragazzi appena si laureano. La finalità qual è? Noi li facciamo studiare, prendiamo il meglio della tecnologia e gli arriviamo ai ragazzi. Questi ragazzi si spostano negli stage nelle aziende locali, l'azienda locale gli dà una borsa di studio appena finisce, già ti pago appena, ti assumo anche per un anno, a tempo determinato, così il ragazzo è motivato a restare nel territorio e miglioriamo sicuramente le aziende locali. Chi volesse partecipare al bando deve presentare il modulo che può trovare sulla pagina Facebook Università Unicusano Trapani, Università Unicusano Castelvetrano, su Google più Università Unicusano Trapani e provincia, compilandolo e presentandolo entro il 31 maggio brevi mano o con PEC tramite le scuole. Tra i primi partner dell'Università è il Centro Medico Eleonora di Castelvetrano che assumerà con un contratto a tempo determinato di un anno uno psicologo.